Questo non dovrebbe essere troppo difficile da riparare con gli attrezzi adatti. Oh, meglio che il nuovo. Ora bisogna portarlo a fare un toast di prova. Sto dentro e... Ma scattiamo! Oh, ma guarda! Sono il primo non-brasileano a viaggiare indietro nel tempo, ma guarda! Ti correggo Homer, sei il secondo. Proprio così, Mr. Pivadi. Zitto tu! Sono andato indietro nel tempo quando i dinosauri non erano ancora confinati negli zoo. Ok, niente panico. Ricordati il consiglio di tuo padre nel giorno del tuo matrimonio. Anche venerdì, Dio cane! Figa nastro! Dio porco! Benissimo. Dio porco! Okei di ruined superhero! Dob-